Musica Ah ciao Oggi devo registrare 24 ore in ordine alfabetico o qualcosa del genere E quindi ha come alzarsi R come il rombo di scato Non ci siamo arrivati alla R B come basta Sveglia Alzati forza Andiamo a fare B come B come basta Quindi niente B come basta E quindi dormiamo Buongiorno Ah che bella giornata Spero prima Ehi ciao a tutti io sono Cinzia E dietro di me c'è Jumpy Dai Sai che cosa può essere B? Bagno in vicina Può essere anche come bacio Oppure botte B come botte Così si sveglia Anche faccio il notare Andiamoci Di colazione Pancake Un po' di geni fritti Ciambelline Un po' di cornecchi Ho fatto con la nutella Sì te lo faccio Le nutelline Il latte E devo ancora Prendere il salato Faccio dolce e salato Tutte cose Colazione Inzuppiamo Salame e mortadella Salame e mortadella Salame e mortadella insieme Salame solo Salame solo Certo che è salame di prima mattina Salato Di come Dobbiamo lasciare la stanza E siccome è una cosa che si deve fare Di come dobbiamo lasciare la stanza Quindi ciao Ciao Ma ancora la vacanza Raffinita Abbiamo tutto un giorno E mi sono fatta le trecce Andiamo 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 a lasciare la camera Siamo in piscina Ed è giunto il momento di Entrare In acqua E prima però volevo farvi vedere questo Guardate che bello è il mio telo Vivi Tantissimo Potete trovare Questo telo In questo link Questo Oppure giù nel l'info box Andate Guardate che bello Ciao Jumpy JM E entriamo Ciao C'è l'aeri Entriamo in acqua Uno Due Aiuto Sei sempre lo stesso Non c'era l'aeri Di quindini Poi 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 Ah che bella Ah che bella Aiuto Dovevo prendere il piede Ti prendo E ti faccio entrare Dai Mi scado No Ma Entrata l'acqua dal naso Però era proprio quello che volevo fare Mi è entrata l'acqua nel naso Ti voglio fare cadere Ti voglio fare entrare Comunque è bellissima l'acqua Ciao tu che non entri Qui l'acqua è un metro e ottanta Quindi non ci tocco Non ci tocco vero non ci tocco Non ci tocco Aiuto Ok Sono sana e salta Adesso c'è la F F di F di fuori Vai a dormire forza Fuori Devo uscire Sì Devo uscire dall'acqua Ce la faccio secondo te così Essere forza E farmi uscire dall'acqua Ah Sclopatta Sono fuori dall'acqua Sono fatta male G G G Ginnastica Andiamo a fare Ginnastica Andiamo Andiamo Adesso Fanno acqua gym Ginnastica Penso che ora ci tocco No Ci sto Ginnastica Avanti Avanti Dietro Dietro E' molto coordinata però HD Hotel E sono già in hotel quindi perfetto E adesso c'è la I I di infortunare Giampaolo Giampaolo Perché ti deve infortunare Ma io devo infortunare te No Potevo infortunare io Forse era I di infortunare Cinzia No Non mi stacco Era infortunare Giampaolo Infortunare Vai forza Giampaolo Forza Dai che ti fa i muscoli Dai Ah 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 Come si permette Ad infortunare No No ci sono riuscita, facciamo pace, è giunto il momento di L, lavarsi, esco e mi vado a è piaciata, lo devo fare, poteva inventarmi qualcos'altro, è giunta l'ora, M di mangiare, anche tu, M di mangiare, N come nuotare, devo nuotare, vabbè, chiaro chiaro, che bello, è freschissimo, ok, lo diamo, è uno stile pure questo, questo è un stile cagnolino, è che io sono piccolino, proviamo anche così, ma è troppo basta, non ce la basta, ma invece quando li cambiamo per scissiello da sole? Cosa non ti sento, sono acqua nelle orecchie? Quando li cambiamo per scissiello da sole, i miei? Perfè li devi cambiare, ci vuole pure sott'acqua, tu va qui, sono occhialini pure per andare sott'acqua, e c'è rana, e poi c'è questo che ti ripetono, è il momento della O, O di ombra, nel mio amato tè lo bevevi tantissimo, tanta ombra, poi ci sarebbe la P, la P di piscina, passeggiata in piscina, P, P, quindi facciamo una passeggiata in piscina, bellissimo, poi ci sarebbe la Q, ma Q di, mi viene solo quadro in mente, vi faccio vedere un quadro, guardate, questo è il quadro, uomo spiaggiato in piscina, è altro che passa, ciao, andiamo a fare la passeggiata in piscina, passeggiata in piscina, quanto è bello ragazzi, dobbiamo tornare a casa, poi ci sarebbe la R, ci sarebbe la Q di, ma Q di quadro, va bene, le ho fatto vedere prima, RB, ruota, mi faccio vedere la ruota dentro l'acqua, sì, perché ormai sono dentro l'acqua, quindi, mi gira la testa, 3, 2, 1, ruota all'indietro, dove sono? Sta finendo la vacanza ragazzi, siamo adesso alla S di storia, Instagram, quindi facciamo una storia su Instagram per far vedere dove mi trovo, quanto è bello, ragazzuoli, sono ancora in vacanza, guardate, guardate che bello, non voglio andar via, come faccio? Storia fatta, ti come tuffo, 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 andiamoci a tuffare, ma io ho paura là, va bene qua, 3, 2, 1, naso, aiuto, ce l'ho fatta, che sono brutta, Allora, siamo arrivati alla U, U come uscire, stiamo uscendo dal villaggio e andiamo a Cepalu, quindi andiamo a vedere Cepalu, quindi usciamo, mamma mia ma sono orrenda, ciao, ciao a tutti, io sono una lampadina e questo è un video luminoso, vietato suonare la tromba, mare blu, cioè non lo so, è strano, è un colore scuro, sarà comunque che il cielo non è una meraviglia, facciamo questa pasta in patina e poi vi per viaggiare, si viaggia per tornare a casa, c'è ragazzi guardate lo spettacolo, oh mio dio, cocco bello, cocco bello, stanchi, 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 siamo in viaggio, viaggio, viaggio finito, quindi vi finita, adesso manca la zeta, zeta, cosa posso fare con la zeta? non lo so, cosa potrei fare con la zeta? e basta zeta, zeta come zitta, zitta, 5ci, accordingtro 5ci, 5ci, Grazie a tutti.